Ecco, facciamo il filmato. Adesso qua e che va giù no? Il burrone sì. No ma non fa lo sbalzo, la figlia. Hai sentito che va giù, vedi il bosco? Sì, qua c'è lo sbalzo, c'è il burrone. Mamma mia, ancora? Bello eh? Non fa ancora dopo. No. Attento perché se tocchi i vetri c'è su di non appoggiarsi ai vetri, guarda qua, guarda i disegni. Sì. Oh mamma mia. Paura? Ho paura se c'è ancora... E adesso c'è lo sbalzino ancora, perché va giù un tento, aspetta. Paura. blindata. Eh qua è bella. Va. Vieni qua vedere. Ah no. Vieni qua a vedere. Nulla da fare. No, no, non ci vengo. Guarda. No, non farlo vedere all'altra sennò non ci viene più. Ma che roba. Mamma mia, spero che adesso vada giù piano perché sennò io scendo. Vai a piedi. Siamo quasi arrivati? Sì.